Oggi alla Camera di Commercio si discute di commercio, di PUMS, del pericolo della desertificazione. Qual è Ingegnere Sciacca e il suo punto di vista? Noi dobbiamo portare avanti secondo me un'idea, un obiettivo. Che cosa vogliamo che questa città diventi? Il futuro. Se vogliamo che si abbia una desertificazione inesorabile o se invece pensiamo che la città abbia potenzialità, ricchezze per poter migliorare e risorgere da un certo torpore a cui purtroppo assistiamo. La parola d'ordine secondo me deve essere rigenerazione. Rigenerazione che non è soltanto la rigenerazione fisica degli edifici ma anche una rigenerazione che riguarda l'aspetto sociale e l'aspetto economico perché sono intimamente collegate. Nel senso che se noi abbiamo una strada, una viabilità e lì in corrispondenza vediamo che chiudono negozi, attività, commercio è chiaro che dobbiamo porci il problema che quella strada sarà meno sicura, sarà meno attrattiva e che quindi dal punto di vista della sicurezza che si sposa anche con un depreciamento della zona ovviamente abbiamo un problema che interessa non soltanto il nostro comitato perché il comitato si chiama sicurezza, sviluppo, sostenibilità, c'è un modo di ma soprattutto perché sappiamo che dobbiamo cercare di fare una sostenibilità che sia accettata dalla gente, condivisa e soprattutto... Per esempio che cosa secondo lei si dovrebbe fare rispetto a quello che ha fatto l'amministrazione? Lei spesso ha polemizzato sul Pums e avete raccolto le firme. Non ho il caso più semplice e forse più chiaro, quello di Piazza Cairole quella zona che si vuole fare diventare un'isola pedonale l'isola pedonale non può essere una strada chiusa perché se io prendo una strada e l'aiuto con le transene quella si chiama una strada chiusa se io voglio creare le condizioni perché quella zona sia veramente un centro commerciale naturale devo farlo diventare attrattivo Allora al primo posto metterei come mai per esempio non si è pensato di fare il parcheggio del Fosso quello sulla via La Farina, un parcheggio multipiano non quel parcheggio che attualmente è realizzato con una struttura precaria, provisionale infatti intanto vediamo qualche macchina sbatte pure in corrispondenza delle pile di sostegno dei pilone, dei pilastri di sostegno in acciaio quindi facciamo molti piani, ma possiamo fare 20 piani sotto terre e facciamo una piazza E dice proprio nella zona? Nella zona in lei Perché ce ne sono i cavallotti? Ecco mi prendo il mio bel carrello faccio la spesa e tolgo quindi nella zona di piazza Gerogli la prima cosa che bisogna immediatamente fare, progettare, realizzare prima di chiuderla è quello di completare il parcheggio multipiano del Fosso poi faccio in modo che i marciapieti, fontane una progettualità che attira giovani attraverso anche iniziative culturali non posso invece pensare come mi pare l'amministrazione voglia fare che sia tutto indirizzato sul food, sul mangiare non possiamo pensare in una città dove ci siano soltanto pizzerie o pasticcerie ci sono e ci vogliono quelle attività commerciali come c'era un tempo basta ricordare tutte quelle che c'erano nella via dei mille dove c'erano attività proprio artigianali perché quelle attività artigianali che hanno chiuso e quelle che ci sono sono patrimonio anche culturale perché rappresentano il passato della nostra vita il presente e il futuro la gente non può pensare che ci sia soltanto l'outlet o il commercio online c'è anche quello ma ci vuole anche quella socializzazione quel contatto fisico per la possibilità che tu esci e trovi ferramenta che trovi quello che ti è giusto alla borsa ripopolare il territorio ripopolare il territorio e fare in modo che questo territorio che noi lo vogliamo far diventare un centro commerciale naturale sia attrattivo per giovani attraverso fenomeni culturali per gli anziani, per i commercianti per tutti quelli che vivono guardi basta pensare la via Don Blasco, ancorché non ultimare nel momento in cui è stato fatto quel tratto di strada si è creata una città, commercio, iniziativa quindi la strada porta ricchezza se noi la strada, le strade che abbiamo che era una ricchezza della nostra città le chiudiamo creiamo degli imbuti creiamo ostacolo facciamo in modo che la gente scappa se ne va, va in altre zone certamente non va a vivere quella città e quelle porzioni che noi invece vogliamo valorizzare grazie a tutti